e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi giretto sui colli piacentini qui farò passo penice penso però un pezzo della valtidone un bel giretto e poi tornerò appunto a casa finalmente la bella stagione ormai aperta siamo già ad aprile e comunque siamo già a 14 gradi quindi l'ideale per andare in moto adesso penso che fare farò la val trebbia per andare su poi al passo penice e fare il ritorno dal valtidone dovrebbe essere poi passerò un laghetto e farò la valtidone giro credo interessante ma starà voi a giudicare bestia quanti queste quanti guardate qua già che bel paesaggio ragazzi queste colline emiliane o romagnole emiliane emilia romagna e giù questa è l'emilia e questo dovrebbe essere il fiume trebbia il fiume tre il fiume tre e ragazzi siamo a bobbio adesso si incomincia a salire per il basso penice a christmas song this is not a christmas this is not a christmas song my neighbors compete to see who can put up more blinding lights the kids all wish away the month cause they want presents in sight this year had me so mad i've been bad got coal that is sitting under my tree i think that my christmas has died this is not a christmas this is not a christmas song this is not a christmas this is not a christmas song when i was just a boy christmas brought so much joy couldn't wait for the presents Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo pian pianino qua perché c'è un po' di giro Passo Penice eccolo Passo Penice bellissimo bello bello ma cosa c'è? Motore ad uno qua Eccoci ragazzi Passo Penice si scende adesso c'è ancora un po' di neve qua Guardate neve 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 Tantissima gente comunque Piano qua è bagnato E c'è la neve C'è un po' di neve E qua c'è ancora parecchia eh Bellissimo Spettacolo ragazzi guardate wow Che bello Che bello Che bello Che si vede tutta la pianura padana con le montagne con le alpi anche spettacolo bellissimo bellissimo Ma si inizia a scendere Bello proprio bello il Passo Penice ragazzi Ma non me l'aspettavo così tanta gente sopra E' un po' più bruttino che questo lato La zona Le strade non sono chissà che però Una bella stradì Cioè a me piacciono questo tipo di strade un po' secondarie Adesso dovremmo entrare nella Valtidone Quella che stradina In off-road andiamo in off-road No dai Veste che stradella E andiamo in off-road ragazzi Stradellina Wow E vai Dio Pronto ragazzi vai Vai con le strade belle Così è spettacolo eh ragazzi Così è spettacolo Infatti qui vi dico una novità Una gran novità Ovvero che Cercherò di portarvi Qualche video dove andrò a fare Delle strade in off diciamo off-road Semplici 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 Non difficili Che potete farle anche voi O anche strade di questo tipo come questa ragazzi Ma è bellissima Un po' di off-road ragazzi Cioè questa comunque è asfaltata Ed è spettacolare Guardate che posto Che posto E comunque anche grazie a questo navigatore Che appunto ti fa fare queste strade panoramiche Bellissimo Che strada Che strada Bello Te ragazzi Che strada Che strada Che strada Che avvallamenti Ma è spettacolare Guarda qua Che paesello Che paesello Bello 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 Che posto Potrebbe essere Uno Dei Che castello Wow Cavallini Potrebbe essere un video dedicato Dedicato ai Ai borghi italiani Ragazzi Guardate qua Ce ne sono un casino Guardate Bellissimo Siamo a Rossone Rossone Frazione Una frazione Zavattarello Zavattarello Uno dei borghi più belli in Italia Zavattarello Zavattarello Rossone Via Uno dei borghi più belli in Italia Zavattarello 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 Si è proprio la strada della Valtidone questa Quindi siamo in Valtidone Le belle stradelline eh Piacenza Siamo usciti dalla Lombardia Siamo entrati in Emilia Bellissimo Bellissimo Ma dovrebbe essere uno dei primi laghetti Qui Dove c'è la diga Non so se il primo o il secondo Qua dovrebbe esserci anche Una diga in questa zona Bellissimo Che zona C'è da venire ogni tanto in questa zona Qua dovrebbe esserci la diga in teoria Ma che bello La roccia ha colore particolare di sta roccia Che bello va che bello Bar 420 E qua c'è la diga E qua c'è la diga Diga del Molato Diga del Molato Ci può andare a vederli qua Continuiamo Per la Valtidone Se dovremmo fare una deviazione Per qualche altra stradellina Se si fa qualche altra stradellina Un po' carina Alta stradellina incagnata Wooo This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh god another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas 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 song This is not a Christmas 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 They want presents in sight This year had me so mad I've been bad Got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song When I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late at night Looking for Santa with lights Those are the memories I still remember Then I became a man Lost sight of who I am But right in front of me was the answer Cause on Christmas I feel joy And I turn back to a boy The answer is to stay young forever This is not a Christmas This is not a Christmas song e niente ragazzi io da questo paesaggio vi saluterei qua e niente spero che questo video vi sia piaciuto come al solito vi ricordo se non l'avete fatto di lasciare un bel mi piace e se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale lasciando attiva la campanellina delle notifiche così da restare sempre aggiornati sulle novità che presto arriveranno ma davvero davvero al top ci sarà un nuovo format che proverò a portarvi ancora non vi svelo niente ma presto uscirà un video a riguardo dove appunto vi svelerò questo nuovo format che sarà davvero importantissimo comunque ci saranno anche altri viaggi imperdibili per quest'anno e quindi ragazzi ci vediamo alla prossima e ciao 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 ciao